a marmo mac 2022 lucidatrici e levigatrici per pavimenti e superfici in pietra firmate clindex l'azienda porta avanti una produzione totalmente italiana e si concentra sull'affidabilità e la qualità dei propri prodotti macchinari conosciuti ed utilizzati in tutto il mondo per la levigatura e la lucidatura di superfici verticali pavimenti in legno parche cemento terrazzo e pavimenti industriali per la nuova edizione di marmo mac clindex presenta in fiera alcune proposte realizzate con massima cura e attento ascolto verso le esigenze del mercato di riferimento levigator 650 è una linea di levigatrici professionali per pavimenti di piccole e medie dimensioni ad uso civile completa di un nuovo planetario k 1500 che potenzia la produttività si tratta dell'evoluzione di levigator 640 levigator 650 agisce e levica più velocemente lasciando una perfetta planarità la macchina è adatta a qualsiasi tipo di lavorazione e di pavimento expander 750 rx è la levigatrice planetaria radiocomandata a velocità variabile e pressione di lavoro regolabile adatta a medio grandi superfici disponibile con motori da 20 hp dotata di telecomando per tutte le sue funzioni compatta facilmente maneggevole e trasportabile anche senza corrente grazie alle batterie integrate hercules 650 vs è invece la proposta di clindex per la levigatrice con velocità variabile e planetario a doppio sistema di rotazione dcs dotata di motore 10 hp terza ruota inseribile per le superfici particolarmente sconnesse e per agevolare il trasporto pesi a ribalta che facilitano le operazioni di cambio utensili croma è la macchina monospazzola più potente al mondo con motore fino a 4 hp è stata progettata per applicazioni pesanti e fa leva su un'ampia linea di accessori che le consentono di risolvere ogni situazione nel modo più economico l'azienda ha maturato nel settore un'esperienza così solida da aver brevettato un sistema innovativo per la lucidatura di pavimenti in marmo e granito oggi clindex continua a investire in ricerca e nuove tecnologie per offrire soluzioni sempre impeccabili per la lucidatura e la levigatura delle superfici